Noi ciociari abbiamo una particolare predisposizione al cibo, un po' tutta Italia, però l'agricoltura, gli allevamenti, le nostre terre... Beh, il Signore non poteva scegliersi un alimento migliore del pane per manifestarsi e per condividere se stesso. Se avete visto quel bellissimo tramonto sigla iniziale è solo perché in quel luogo dove stavo, la particolarità di quel panorama e quel rosso splendido, beh, non poteva essere non preso. Ma arriviamo al dunque, 7 gennaio e domenica del Battesimo del Signore. Isaia, al capitolo 55, ripercorre, come fa sempre, come fa forse con una particolare insistenza, ma con parole e con un fare piuttosto lirico, la grandezza del Creatore. Nel cibo succulento, nell'aver creato tutto, nello stabilire sempre un rapporto, un'armonia, nel chiamare l'uomo, nello stringere l'alleanza con quest'uomo, nel dare una norma e dare un indirizzo bello chiaro. Per cui l'Empio abbandoni la sua strada fatta di cattivere e malignità, così l'amore del Signore farà germogliare il giusto. La seconda lettura, prima Giovanni, tesse un discorso meraviglioso, teologico, in cui lo spirito, l'acqua e il sangue diventano i tre elementi che vivificano questa terra, l'uomo, anche il pensiero, la sua razionalità, la ricerca delle cose buone. Per cui nell'acqua c'è la forma della benedizione, il sangue, la forma del sacrificio, ma non come la farebbe un uomo, come la farebbe Dio attraverso il suo spirito. Per cui il Cristo, proprio perché è principio della divinità e perché è lo spirito che alleggia in ogni cosa buona, fa sì che l'acqua addirittura possa, mia libera interpretazione, diventare il battesimo per il nuovo popolo. E il suo sacrificio, il suo sangue, è principio della eternità richiesta per la salvezza. E come non menzionare il grande Evangelo, che non è il battesimo dei bambini, ma il battesimo di un Gesù già adulto, che l'acqua diventi il segno evidente, non solo di un lavacro, ma di una iniziazione. E lo spirito alleggia su questo grandioso evento del battesimo al Giordano come la grande forma della grazia di Dio che manifesta all'uomo che questo è veramente il figlio unigenito. In Lui tutti si compiaceranno, in Lui tutti verranno salvati. Sarebbe bello essere battezzati da grandi, un po' come fanno gli evangelici, un po' come fanno anche i protestanti, perché viene da sé che ci vuole un po' della maturità umana, un po' di quegli anni in più, dalla maggiore età andando in avanti per dire io credo. E io credo è la forma di quello spirito che attraverso l'acqua e attraverso il sangue ci fa dire abbiamo un padre, abbiamo un salvatore e abbiamo un consolatore che ci accompagna per tutta la nostra esistenza. Come sempre ricordatevi buona domenica.